Hey! Nuovi arrivi da Ebay! Si parte da Capitano America e Torro numero 0 dove c'era questa mitica storia I am Legend dove Capitano America incontrava i grandi personaggi leggendari del passato tipo questo spaccatore delle ferrovie o Paul Bunyan o addirittura Zio Sam Poi un bellissimo crossover tra Lobo e Giudice Dread Due cazzutissimi che si incontrarono sempre negli anni 90 Mitici Eh? Si Lobo Poi c'ho un altro Capitano America contro il Teschio Rosso Nell'epoca Legacy Poi c'è questo gruscino Love Story e Gran Finale Grauscio Primo Capolavoro Oh yes! Grauscio Che Grazie.